Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hatch in scala 1 a 8 edizione Hachette uscita numero 38. Per chi avesse piacere di dare lettura all'interno del fascicolo vada a vedersi l'unboxing dove ho fatto il video e ho dedicato tempo per poter fare delle riprese abbastanza lente per consentire alle persone interessate alla lettura di poter appunto comprendere ciò che c'è scritto. Comprendere non è un termine giusto o sbagliato, volevo dire riuscire a leggere visto che ho potuto fare delle riprese più dedicate. Quindi adesso andiamo, ma cribbio, ma perché mi devo sempre andare ad incasinare per dire una cosa semplice? Non bastava dire chi vuole leggere vada a vedersi il video dell'unboxing? Bene ragazzi, l'ho detto adesso. Passiamo subito al montaggio. Mannaggia. Andiamo a prendere quello che abbiamo montato nel numero 37. Ci servirà anche questo con la lettera L perché monteremo la ruota sinistra. Ovviamente quello che troviamo nell'uscita numero 38, quindi il pneumatico, due serie di viti, GM e DM. Ok? La rondella che poi verrà messa prima della vite GM che andrà a bloccare la ruota sul mozzo. Questo è il tappo di chiusura del coprimozzo che ho già fatto vedere nel video dell'unboxing, ma guardate il particolare. Si legge la scritta. Ve lo voglio far vedere bene perché è impressionante come è stato riprodotto. È un pezzo piccolissimo. Eppure, guardate, sprint. E sopra c'è scritto qualcos'altro ma non riesco a leggerlo. Poi sicuramente guardando il video lo saprò leggere. Ecco qui. Quindi abbiamo questo anche che è il coprimozzo. Andiamo a inserire questo all'interno. ecco qua. Perfetto. Poi le viti DM io le ho già filettate qui. usando un lubrificante mi sono creato i filetti. Potete usare qualsiasi lubrificante non importa quale. Però vi consiglio di farlo. Ecco qua. Guardate il copertone. perché non è detto che siano stampati perfettamente bene su entrambi i lati. Infatti, guardate qui. questo numero di serie, come potete vedere, si vede molto meglio da questo lato qui. Quindi scegliete la parte che si vede meglio e mettetela così dalla parte dei bulloni, che è quella che si vede. Poi andiamo a posizionare questo pezzo sopra nell'unica posizione possibile. Qui abbiamo questi due perni che escono, che vanno poi inseriti qui, e qui abbiamo i tre fori delle viti. Quindi questo pezzo non potrà che essere messo così. Eccolo qua. Perfetto. E avvitiamo. Se vi siete creati i filetti, girate il cacciavite al contrario. Appena sentite il tac, avvitate, senza stringere tutto. Lo farete poi alla fine, dopo aver posizionato tutte le viti necessarie, per questa sezione o un'altra sezione di montaggio. Sessione, chiedo scusa. Ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Grazie. E grazie a tutti i miei iscritti, perché contribuite a dar vita al canale. Ecco qua. Bellissima. Ed è veramente pesante. Fatto questo, giriamo pagina. Perfetto. Andiamo a prendere il nostro telaio e facciamo un po' d'ordine. Ci vediamo dopo. Eccoci qua. Io mi sono già creato il filetto con la vite GM, sempre usando un lubrificante. Va bene qualsiasi lubrificante, non è importante quale. E me la sono andata ad avvitare qui. Adesso la rimuovo. Ecco qui. Vado a prendermi la rondellina, quella in plastica. Aspettate perché abbiamo un po' di plastica che sporge. La consumiamo subito. Ero sicuro di aver preso, eccola qui, una piccola lima. Perfetto. Ok. La rondella potete metterla come volete. Per i più pignoli come me vi accorgerete che c'è un doppio collarino. eccolo, vedete? E io la vite la metto così. Allora, andiamo adesso a vedere come montare questo pezzo. E' semplicissimo, eh. La difficoltà sapete qual è. E' riuscire a inquadrare. Allora, un attimo, eh. Cercherò di farcela, ma non è detto. Così non ce la posso fare. Abbiate pazienza. Eh, facciamo così. Allora, guardate. Abbiamo questo scasso che va messo verso il basso, così. Non vi potete sbagliare. Guardate. Lo inserite. Ricordatevi, lettera L. Lo inserite così. Guardate lo scasso dov'è. In basso. Fate girare e vedete che non si muove più. E questa è la posizione. La L deve andare sotto il mozzo. Prima di fare questo, però, prendete questo filo, che è quello che fuoriesce qui dal piantone. Ce n'è anche uno dall'altra parte. Lo inseriamo in questo forrellino qua. Ecco, così. Perfetto, vedete. Quindi, dicevo, lo inserite così. Poi, fate questo lavoro. Guardate. Un nodo. Ecco qua. Semplicemente così. Prendete questo. Lo fate scorrere. Lo fate entrare qui. Tirate. E poi reinserite questo all'interno. Così. Perfetto. Adesso andiamo a mettere la nostra bella ruota. Questo filo lo attaccheremo dopo. Però, prima di attaccarlo, passiamo all'interno. Vedete questo, l'ammortizzatore? Lo possiamo passare tranquillamente di qua. All'interno, tra la molla. Aspettate che lo prendo. Ecco qui. Un attimo, eh, ragazzi. Esco un attimo dall'inquadratura. Un attimo solo. Allora, guardate, ragazzi. Io ho cercato di vedere le due possibilità di dove far passare il tubo. Questo. Ecco, vedete questo? Che è quello che è attaccato al disco. L'altro l'abbiamo già messo. Vedete? Che abbiamo fatto il nodo. Ecco, guardate. Allora, se lo facciamo passare attraverso questo spazio all'interno, così, tra questo pistone e la molla, il filo rimane così, il tubo, perché poi va inserito nel perno libero che abbiamo qua, sopra il differenziale. Ok? Non so se riesco a farvelo vedere bene. Spero di sì. qui ve lo indico. Invece, se volete, potete farlo passare all'esterno. Quindi andiamo a sfilarlo e lo andiamo a mettere così. adesso io poi vi dirò quello che farò, però decidete voi sul vostro modello. Un attimo, anche se esco dall'inquadratura, non vi preoccupate, perché sto semplicemente mettendo il tubo dell'olio nel perno che c'è sul differenziale. E poi sapete che io andrò poi a sfilarli nuovamente ed incollarli tutti. ecco, vedete, il tubo, se lo fate passare fuori, rimane così. E vi dico che a me non dispiace, sinceramente. È un po' lungo, eh. Però se io andassi a accorciarlo... Vediamo un attimo, eh. Potrei anche accorciarlo, ma sinceramente non mi dispiace così lungo. e vi dico che io lo faccio passare qui, dalla parte esterna, perché non tocca da nessuna parte. Vi faccio vedere da vicino. Vedete? Non mi tocca da nessuna parte, né qui, né qui. Non mi fa una brutta curva come se lo faccio passare all'interno. Poi voi fate quello che volete. Ok. Adesso andiamo a montarci la ruota e abbiamo finito anche questo montaggio. Però, ricordatevi, non andate subito via perché, prima dei saluti, andrò a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 38, e poi ci salutiamo. Posizioniamo questo che non deve poter ruotare. perché la L deve essere perpendicolare a questo mozzo. Eccola lì. Inserite la ruota. Così. Perfetto. Prendete la vite. Gm. Ricordatevi di mettere la rondellina di plastica. e avvitate. Quanto dovete avvitare? Beh, io non ci devo giocare, quindi, anche se la ruota mi gira frenata, a me va bene lo stesso. Così evito di avere dei brutti giochi. Vedete? Non è libera. Se io la svito, è più libera. Però ho più gioco. Quindi la stringo. E questa è una cosa del tutto personale. Vedete voi come volete montarla. Bene. Non ci rimane che mettere questo. Il coprimozzo. E anche questo, stranamente, mi entra troppo libero. Quindi, cosa devo fare? Andiamo a vedere se riesco a trovare la soluzione. Ma la troviamo di sicuro. Un attimo. Quello che adesso andrò a fare io lo devono fare solo quelli che hanno un po' di esperienza. altrimenti, se questo, così come anche a me, anche a voi, vi balla, incollatelo. Oppure, se siete un po' capaci, senza andare con la pinza su queste parti qui, in rilievo. Ma dove non ci sono, andate a deformare, così, la plastica. Le si ovalizza. E una volta inserita non esce più. Eccola qua. Perfetto. Ecco, quando mi sentite in silenzio è perché sto cercando di inquadrare nella giusta maniera. ecco qua, ragazzi. Abbiamo finito il montaggio numero 38. Quanto è grande questo modello? Se non lo avete fatto, ve lo garantisco, non rende nelle immagini. È veramente grande. Considerate che questo cubo fotografico è 80 centimetri. Guardate. Se lo mando contro, questo è quello che avanza. 10 centimetri. È 70 centimetri di lunghezza questo modello. Adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero il 38 e poi ci salutiamo. A dopo. Sono veramente entusiasta. Questo modello è veramente fatto bene. È veramente fatto bene. L'unica cosa, ma lo sappiamo, peccato, è perché hanno sbagliato le leve, non la molla. Le leve. La molla, anche se ce la dessero più morbida, non cambia nulla. Hanno sbagliato proprio il sistema di leve nel movimento degli ammortizzatori anteriori. Comunque, non ci dobbiamo giocare. Io sono felicissimo di questo modello. È veramente bello. Ed ecco qua. Abbiamo messo un altro pezzo importante a questa nostra bella macchina. La ruota posteriore sinistra. Mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere se anche voi avete stampata la lettera R sul cerchione. Questo qui all'interno. Guardate. R1. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie, ragazzi. Bene. Questo è il parafango anteriore sinistro. Tutto in metallo. Freccia funzionante grazie ad un LED che verrà collocato qui all'interno. Stessa cosa anche per il musetto anteriore. Tutto in metallo. Le luci saranno tutte funzionanti grazie sempre a dei LED. Il lampeggiante. Bellissimo. Non è funzionante. Ma è riprodotto in maniera splendida. Sembra acceso pur non essendo funzionante. E questo è il motore. Uno spettacolo. Anche la nuance di colori. Gli adesivi. Guardate la batteria. Ricordatevi di incollarvi tutti i tubi. altrimenti vi si staccano. E qui ce ne è veramente tanti. Poi da andare a riattaccare. Ecco qua. Come vi ho già fatto notare. Così come nella macchina reale. Questa ruota è più spessa. E più larga della ruota anteriore. Andiamo a dare un'ultima occhiata sotto. E poi siamo veramente arrivati ai saluti finali. Ecco qui. Vedete? Non è brutto il tubo messo così. Io lo trovo più gradevole rispetto al fatto di farlo passare qua in mezzo. Rimane più strozzato. Non mi piace. Infatti qui si vede che la ruota è più piccola rispetto a quella dietro che è più larga. bene ragazzi. Michele vi ringrazia con tutto il cuore del vostro tempo. Grazie di continuare a contribuire e a dar vita al mio canale. Mi raccomando. Iscrivetevi. Attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. E non mancate perché adesso andiamo a preparare il video numero 39. Ciao.